Il terzo appuntamento di Aspettando il 2 luglio è partito puntuale mercoledì sera alle 21 con il duo lo signore Trivisani a legare i pezzi di una narrazione articolata anche nei toni come pure è la festa in onore della santa patrona di Matera. Si comincia con la pillola di Francesco Foschino con lo storico e ricercatore di cose materane che risponde alla domanda perché la fase più solenne della festa della Bruna ha luogo proprio a Piccianello. Poi spazio alla musica con un giovane talento del liceo Tommaso Stigliani e ad una rappresentanza dell'Associazione dei Cavalieri a Dino Paradiso con la sua La poesia della Bruna un racconto nel racconto con la testimonianza del generale dei cavalieri che accompagnano il carro trionfale il 2 luglio. È la volta poi di chi il carro lo scorta e lo protegge lungo tutto il percorso con Maria Paola De Santis in collegamento da Rione Piccianello ci sono gli angeli del carro. Patrizia Di Franco dirigente scolastica del liceo artistico e classico di Matera presenta le iniziative per la festa dei suoi studenti il tempo di un bilancio dei preparativi con il delegato arcivescovile Don Francesco Di Marzio e le immagini della peregrinazio del bambinello di Maria. Poi un contributo curato da Francesco Giase che grazie alla cooperativa Oltre l'Arte entra con la telecamera nella chiesa di Santa Maria de Idris nel cuore dei sassi che fa anche da cornice all'esibizione musicale di quattro allieve del conservatorio Duni. Basilicata creativa cluster delle industrie culturali e creative lucane accompagnato i telespettatori nella cattedrale di Matera per una dimostrazione sul campo riguardante le riprese video e fotografiche a 360 gradi degli ambienti da visitare poi virtualmente tramite visori. L'artista realizzatrice del caro trionfale Francesca Cascione parla invece del racconto dei discepoli di Emmaus rappresentati in varie scene del manufatto. La tradizione rivive anche riattualizzata grazie al viaggio proposto dall'installazione I Tesori di Matera aperto alla cittadinanza nella fabbrica del carro. Saluti finali in musica e allegria e appuntamento come di consueto a questa sera alle 21 per la quarta puntata.